Sciopero nazionale dei medici in Italia, oggi c'è un presidio a Pescara in via Conte di Ruvo. Quali sono i motivi di questa protesta? Cosa chiedete? Noi siamo veramente delusi da questo governo. In una finanziaria di 20 miliardi dove si sono trovati bonus per qualsiasi cosa, sino anche per la protezione degli orti e dei giardini, non si è trovato un euro per rifinanziare il sistema di servizio sanitario nazionale. Questa è veramente una grande delusione e un'ennesima dimostrazione della considerazione che il governo ad ogni livello ha dei suoi medici. La sanità pubblica è al collasso. Sono otto anni che i medici non hanno più un contratto di lavoro. Il contratto è stato bloccato da otto anni. È un rimpallo di responsabilità del governo e delle istituzioni ad ogni livello. In Abruzzo la situazione è semplicemente disastrosa. Lei pensi che dal 2010 ad oggi 9.000 medici usciti dal lavoro non sono stati rimpiazzati. Se lei gira negli ospedali vedrà degli interi reparti che non hanno organico e quelli che sono rimasti devono supplire ai colleghi che sono andati via in pensione o per altri motivi. Ogni qualvolta c'è un disservizio, non c'è nessuno che voglia implicare le responsabilità, addebitare le responsabilità alle condizioni di lavoro a chi dovrebbe fare e non fa. I medici sono sempre gli unici responsabili. Noi diciamo basta, ripeto, è solo una prima iniziativa, ce ne saranno delle altre. E concludo dicendo con rammarico che l'Italia fino a qualche tempo fa era un'eccellenza della sanità, cosa abbastanza rara nella nostra nazione. Noi eravamo addebitati come una sanità di eccellenza, tra le prime del mondo. E questo io penso grazie anche ai medici italiani. Oggi siamo al collasso.